bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono asto come al solito o come una volta ognuno due tre quattro cinque sei mesi torno sul mio canale per dirvi una cosa importantissima domani venerdì 5 ottobre e sabato e domenica sarò il games week quindi potrete incontrarmi se ve ne frega qualcosa se no se non ve ne frega un cazzo bella cioè venite per la fiera sfrutto l'occasione per raccontarvi un fatto che mi accade nel 2014 esattamente il games week del 2014 perché fare un video così solo per dirvi che sarò il games week mi sembra un po una merda cioè dice oh bella raga ci sono e basta chiudevo il video comunque correva l'anno 1990 2014 stavo andando al games week con il mio miglior amico federico era anche il mio compagno di avventure avevamo un canale youtube che poi abbiamo chiuso però vabbè un sacco di cose roba vecchia stavamo andando al games week sai il solito ragazzini cosa fanno al games week vanno in cerca di youtuber fare le foto le robe vabbè girando per la fiera una certa incontro ciccio gamer minchia raga ciccio gamer era il mio era il mio youtuber preferito cioè possiamo anche dirlo tranquillamente era un grande zio cioè giocava a minecraft faceva tutti i giochi era simpatico era ciccio gamer vabbè la mia versione più giovane più grassa va da ciccio gamer e gli fa ehi grande ciccio possiamo farci una foto ciccio fa oh sì sì certamente c'è un fatti la foto a una certa gli faccio senti ciccio ma dov'è che posso comprare le magliette non trovo lo stand e lui mi fa aspetta aspetta va fuori va in macchina apre il bagagliaio c'era uno scatolone prende una delle sue magliette me la porta fa tieni questa è per te io mi chiamo no cioè raga ciccio gamer mi ha regalato la maglietta cioè una delle sue io mi sono commosso raga mi sono commosso è stato uno dei momenti più belli in assoluto cioè che gli faccio ciccio posso abbracciarti in lacrime io piangevo mi sono messo a abbracciare ciccio gamer vai tranquillo tranquillo mamma mia ragazzi che hanno che hanno mamma mia tra l'altro la maglietta ce l'ho ancora la uso per dormire e è comodissima e niente ci vediamo games week